Questo Nero d'Avola è dedicato, c'è anche la data segnata, quella di oggi, proprio all'Expo. Si tratta, come dire, di questa importante evoluzione che i nostri vini hanno registrato in questi ultimi anni, tanto da raggiungere primati non soltanto in Italia. Fungevano una volta e servivano per tagliare e potenziare i vini francesi, piuttosto che dall'Univini del Nord Italia, oggi, da soli, imbottigliati con questa etichetta, con il marchio che ne garantisce la qualità ma anche la provenienza, fanno sì che la Sicilia, non soltanto in questo settore ma in generale nel settore dell'agroalimentare di qualità, abbia raggiunto non pochi vertici. Si tratta, peraltro, del tema di questo Expo. L'alimentazione, nutrire il pianeta, un tema di grande attualità perché tanta gente purtroppo soffre e talvolta muore di fame, mentre una dieta, come dire, non equilibrata determina patologie. Da qui al 2015, peraltro, attraverso il gruppo, il comitato interassessoriale e soprattutto la Fondazione per la Dieta Mediterranea, che l'assessorato di Dantrassi ha costituito qualche mese fa, vogliamo essere interlocutori con Expo 2015 per arrivare preparati all'appuntamento. La Sicilia, fin dall'inizio, si è subito correlata con Expo 2015, come ha fatto, peraltro, la Shanghai lo scorso anno, con una prospettiva che punta alla valorizzazione di tutto il prodotto siciliano del settore agricolo, del settore alimentare, quindi dal settore vitivinicolo alla trasformazione del pescato, alla trasformazione agroalimentare. Quindi una prospettiva di forte raccordo, non solo assicurando una presenza nel 2015 a Milano, che sarà rispettosa di tutte le produzioni siciliane e della capacità che la Sicilia di produrre cibi di qualità, ma soprattutto una correlazione con Expo per le ricadute in termini di turismo, di spettacoli, di eventi che possono essere realizzati in Sicilia e che possono quindi fungere da trattore verso il territorio siciliano di investimenti e di nuove iniziative turistiche, che è correlata proprio con l'Expo. Siamo alla quinto appuntamento, ne avremo altri l'anno prossimo. L'Expo è qualcosa che va fatto conoscere, che va fatto capire. È un'opportunità di promozione territoriale, oltre che le 20 in sé, ma è ovviamente necessario far capire qual è il nostro lavoro, qual è il nostro percorso e iniziare una fase di collaborazione. Quindi fondamentalmente siamo qui per cercare di spiegare quello che stiamo facendo e per raccogliere consenso rispetto al nostro progetto. L'esposizione non è onestamente l'esposizione di Milano, è un'esposizione italiana. Non può che essere così, riscontriamo molto consenso dall'estero, ma riscontriamo molto consenso verso l'Italia e questo connubio alimentazione Italia funziona moltissimo.